Salve ragazzi e cari amici del web, sono Andrea Bruno, un caro saluto a tutti coloro che mi seguono, gli amici che mi seguono via internet, seguono i miei aneddoti, le mie storie e i miei itinerari di viaggio. In questo momento mi trovo in Malesia e sono in un posto molto bello, Yogyakarta, nel centro, e mi trovo in un ristorante d'eccezione molto interessante, ecco mi hanno appena portato in tempo. Mi hanno appena portato quello che ho ordinato, vi faccio un po' vedere il posto, fra breve riparterò per l'Italia perché ho un'altra battaglia da fare, questa volta qui nel mio paese natale, mi batterò per riportare i diritti civili e democratici nel nostro paese e vi faccio vedere un po' questo posto molto semplice. Eccoci qua, questo super ristorante, mi trovo su un tappeto, qui abbiamo altra gente che sta mangiando e oggi mangerò la famosissima cucurrusa gaviaci e un tè con un po' di latte. Vigno? Qua abbiamo anche qualche amico, il posto è veramente molto bello e ci sentiamo alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Ismael.